Aspettate un conveniente last minute, last second, a Trieste adesso c'è Vora Airlines! Viaggia in un modo moderno, facile, economico e a impatto zero! Ci sarà solo l'impatto col terreno! Vora Airlines! Sfruttando infatti l'energia eolica, la Bora Airlines vi offre un servizio di lunga, media, corta e cortissima distanza e senza dover più aspettare noiose file ai check-in, perdere tempo, imbarcare i bagagli, pericolo di rotamento e altro! Questo sarà solo un ricordo del passato, ma soprattutto non dovrete aspettare l'orario di partenza e nemmeno recarvi all'aeroporto! Potete decidere voi quando partire! Basta con il pilota e i suoi messaggi dalla cabina che non si capisce mai un cazzo! Basta con le hostess che se la tirano e vi propinano i drink scadenti e costosissimi! Partite oggi nella splendida cornice di Trieste! Dove? Dalla vostra via preferita, dove tira il vento! Tutto quello che serve è un aliante, un paracadute oppure un grande ombrello resistente! Un po' di forza nelle braccia e via! Partite subito col prossimo refolo in arrivo! E la destinazione la scegli tu! Bologna, Milano, Muggia, l'edicola di Via Mazzini... Beh, dipende dalla forza del vento! E quando sei arrivato, molla la presa! E allora cosa aspetti? Parti anche tu subito con Bora Airlines! Attenzione! Possibilità di incontrare velivoli, uccelli, superman, castelli in aria, asini e elefanti volanti! L'offerta scade quando il vento non soffia più! Avvertenze! La destinazione ai tempi di percorrenza non sono garantiti! Spese per il biglietto, IPT, IRPEF, IRAP, IVA escluse! Però può causare mal d'aria, mal di testa, diarrea, assefuazione e pericolo di morte! Il mondo segari balcà! E come la porra che viene e che va! E dici che il mondo segari balcà! Col 2 se va a sermola, col 4 in arsenal! Col 6 se va a barcola, col 5 in ospedal!